La nostra regione sta per essere interessata dal passaggio di un nuovo fronte perturbato proveniente dal nord Europa, il quale, oltre a determinare un moderato peggioramento delle condizioni meteorologiche, causerà una sensibile diminuzione delle temperature che avvertiremo nella giornata di domenica 10 aprile. Osservando la cartina prevista per la giornata di sabato 9 aprile, possiamo apprezzare come l'alta pressione delle azzorre vada a posizionarsi tra Spagna e Francia fino ad allungarsi verso le isole britanniche, consentendo così la discesa di aria relativamente fredda verso la nostra penisola. Aspettiamoci dunque un nuovo colpo di coda dell'inverno, anche se si tratterà di un episodio di breve durata. Ma ecco in dettaglio il tema previsto per questo fine settimana. Sabato 9 aprile, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di brevi ed isolati piovaschi nelle aree a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, con associate precipitazioni ad iniziare dalle aree costiere, temperature in diminuzione, sensibile dalla serata, venti moderati da ribeccio, con tendenza a rinforzare e a disporsi da ponente. Mare molto mosso o agitato. Domenica 10 cielo inizialmente molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, anche temporalesco. Nevicate in montagna al di sopra dei mille metri. Tra il pomeriggio e la serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi e accessare del tutto nel corso della notte successiva. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori che si porteranno ben al di sotto della media del periodo. Venti moderati settentrionali con tendenza a diminuire di intensità dalla serata. Mare da mosso a poco mosso. A partire da lunedì l'alta pressione si espanderà in direzione della nostra penisola, ricevendo anche un contributo africano. Dunque, nei primi giorni della prossima settimana, ci attendiamo condizioni di stabilità con temperature che subiranno un sensibile aumento, fino a portarsi su valori tipici del mese di maggio. Incerta ancora l'evoluzione successiva, ossia per il weekend pasquale. Invito pertanto i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile. Grazie a tutti.